Mercoledì primo aprile 2015 negli studi di Uomini e Donne è stata registrata una nuova puntata dedicata al trono classico e come da nostra consuetudine siamo pronti per raccontarvi quello che è successo grazie alle nostre puntuali anticipazioni. Dopo il solito sparietto di Tina Cipollari si parte dalla scorsa settimana con Valentina che si reca nei camerini per chiedere spiegazioni a Gianluca. Lui ribadisce il suo interesse nei suoi confronti, i due si chiariscono e il ragazzo torna in studio. Valentina esce in esterna con Mariano, lui l'aspetta in un roof per una cena romantica ma la tronista non sembra dell'umore adatto. Le sono arrivate delle voci all'orecchio su di lui, nel suo paese si mormora che stia ancora sentendo la sua ex. Valentina gli chiede di mostrargli il cellulare, Mariano ne fa una questione di fiducia e si rifiuta. I due si salutano malamente. Andrea raggiunge Valentina a Bologna. Lei è giù di morale ma lui sa come strapparle un sorriso. I due si concedono una romantica passeggiata al termine della quale scatta il bacio. Molto sentito e sincero a detta della stessa Valentina. In studio Mariano è incontenibile ma sembra che lui e il suo rivale in amore Andrea nei camerini vadano d'amore e d'accordo. Stima e simpatia reciproca forse un tantino sospetta confermata dagli altri corteggiatori. Valentina si sente presa in giro, esce dallo studio in lacrime e si rifugia dietro le quinte. Maria De Filippi vuole vederci chiaro e così interpella l'assistente che si occupa dei ragazzi dietro le quinte. E Giovanotto conferma il feeling tra Andrea e Mariano. I due sembrano tutto eccetto che rivali in amore. Valentina ne ha abbastanza e li elimina entrambi. Potete uscire a braccetto chiosa con sarcasmo.